Eliminare gli odori vaginali con rimedi naturali. L'uso topico di alcuni rimedi naturali può aiutare a bilanciare il pH della vagina ed eliminare gli odori vaginali. Il cattivo odore delle parti intime è un sintomo fastidioso che può produrre ansia sociale, insicurezza e problemi nella vita sessuale. Viene descritto come un odore di pesce, e può essere accompagnato da prurito, arrossamento e abbondanti perdite vaginali. A seguire vi presentiamo alcuni rimedi naturali per eliminare gli odori vaginali. La causa principale è un eccessivo sviluppo di lieviti e batteri nella zona, causando infezioni che alterano il pH naturale. Sebbene non è da considerarsi un problema grave e di solito si verifica sporadicamente, è meglio iniziare un trattamento per neutralizzarlo il prima possibile. A seguire esaminiamo alcune delle cause principali e proponiamo 5 rimedi naturali per eliminare gli odori vaginali. Prendete nota. Quali sono le cause del cattivo odore intimo? Il cattivo odore nelle parti intime è un chiaro indizio di squilibri nella flora vaginale. Questa coltura di batteri sani è responsabile della formazione di una barriera protettiva contro diversi agenti patogeni che causano infezioni. Queste alterazioni modificano la composizione dei fluidi vaginali e, di conseguenza, si produce un forte odore. Questo, a sua volta, può essere causato dall'eccessiva crescita di virus, batteri o lieviti che possono diffondersi nell'area. Altri fattori correlati includono, lavaggi frequenti cattiva igiene intima uso di prodotti chimici durante i rapporti sessuali consumo frequente di determinati alimenti squilibri ormonali indossare vestiti troppo stretti o umidi malattie sessualmente trasmissibili tumore al collo dell'utero uso eccessivo di antibiotici incontinenza urinaria rimedi naturali per eliminare gli odori vaginali a volte è necessario ricorrere a cure mediche per porre rimedio alle infezioni vaginali che producono un cattivo odore. Tuttavia, la maggior parte delle volte è possibile ricorrere a semplici rimedi di origine naturale. 1. Fieno greco I semi di fieno greco sono grandi alleati della salute intima femminile. Contengono sostanze nutritive essenziali che favoriscono l'equilibrio ormonale, riducendo la comparsa di cattivi odori legati agli squilibri dell'attività degli ormoni. Questi semi aiutano anche a regolare il ciclo mestruale e regolano il pH vaginale. Ingredienti 1 cucchiaio di semi di fieno greco 15 g 1 tazza d'acqua 250 ml Preparazione Aggiungete i semi di fieno greco a una tazza d'acqua bollente. Lasciate riposare la bevanda per 10 minuti e filtrarla con un setaccio. Assunzione Bere 2 o 3 tazze di infusa al giorno. 2. Bicarbonato di sodio Il bicarbonato di sodio è uno dei migliori deodoranti naturali per eliminare gli odori vaginali. La sua composizione alcalina regola il pH e riduce la crescita dei microrganismi infettivi. Ingredienti 3 cucchiai di bicarbonato di sodio 27 g 2 tazze d'acqua 500 ml Preparazione Diluire il bicarbonato in 2 tazze di acqua tiepida. Modo d'uso Sciacquare la vagina per 10 o 15 minuti. 3. Foglie di guava Le foglie di guava hanno proprietà medicinali utili nel trattamento di alcune infezioni che alterano il pH delle parti intime. I suoi composti antiossidanti, antimicotici e antibatterici combattono i microrganismi dannosi e ripristinano l'equilibrio della flora vaginale. Ingredienti 10 foglie di guava 3 tazze d'acqua 750 ml Preparazione Aggiungere le foglie di guava in una pentola con l'acqua. Portate a ebollizione, poi abbassate il fuoco e fate cuocere per altri 5 minuti. Trascorso questo tempo, lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Modo d'uso Filtrate il liquido e usatelo per lavare le parti intime 2 volte al giorno 4. Tea 3 e oil Il tea 3 e oil ha proprietà antibiotiche e antimicotiche che aiutano a combattere i batteri e i funghi che causano le infezioni vaginali. La sua applicazione esterna aiuta a eliminare gli odori vaginali e riduce il prurito e l'irritazione. Ingredienti 1 cucchiaio di tea 3 e oil 15 g 2 tazze di acqua 500 ml Preparazione Diluire l'olio essenziale di tea 3 in 2 tazze di acqua tiepida. Modo d'uso Spruzzare il liquido sulle zone esterne delle parti intime, risciacquando bene. Applicare tutti i giorni fino a scomparsa del cattivo odore. 5 Foglie di coriandolo ricche di minerali, vitamine e antiossidanti. Le foglie di coriandolo regolano il naturale pH della vagina riducendo secrezioni e cattivo odore. Ingredienti 2 cucchiai di foglie di coriandolo, 15 g, 2 tazze di acqua, 500 ml. Preparazione Aggiungere le foglie di coriandolo in 2 tazze di acqua bollente. Coprire la bevanda, lasciarla riposare per 20 minuti e filtrarla. Modo d'uso Spruzzare il liquido nelle parti intime, risciacquando bene le parti esterne. Applicare tutti i giorni, fino a scomparsa del problema non è sotto controllo. Sentite un forte odore provenire dalle parti intime? Avete paura che gli altri lo sentano? Provate uno dei rimedi citati e ponete fine al problema prima che generi ulteriori disagi.